Andare ai mercatini quest'anno è più facile e comodo. Il comune e ATV hanno infatti messo a disposizione dei cittadini una navetta ogni 10 minuti, tutti i giorni, che si muove tra i parcheggi dislocati attorno al centro storico e arriva fino in piazza Bra. Sì, navetta ogni 10 minuti dal parco della Fiera e dagli altri due parchi attaccati alla Fiera, che serviranno ogni 10 minuti, piazza Bra e quindi i mercatini di Natale. Inoltre un'altra navetta che parte dal parcheggio del gasometro e si ferma qui in fianco a piazza Bra, all'argo degli Alpini. Questa iniziativa perché? Certamente per dare un riscontro all'utenza rispetto al tanto traffico che c'erano nei mercatini di Natale, erano scorsi di un satte milione di presenze e ce le aspettiamo che quest'anno e l'amministrazione comunale ha chiesto questo intervento importante che noi facciamo molto volentieri. Grazie a tutti!